San Francesco Saverio Francesco de Iasui Xavier, tradotto in Saverio, nacque in Spagna, nella regione di Navarra, nel 1506. Il nobile addottorato padre e la ricca e nobile madre lo mandarono a studiare a Parigi, dove scoprì la propria vocazione. Nel collegio di Santa Barbara fu compagno di stanza di Ignazio la Loyola, che diventò la sua guida spirituale. Nel 1534 entrò nella compagnia di Gesù. Ordinato sacerdote, a 35 anni partì in missione per l'Estremo Oriente. Nominato provinciale di tutte le missioni d'Oriente, fu colto dalla febbre e morì il 3 dicembre 1552 a 45 anni. Patrono del Giappone, dell'India, del Pakistan e della Mongolia, è protettore dei missionari, dei naviganti e dei turisti.